La provincia di Pesaro Urbino celebra l'8 marzo sottolineando i valori di libertà, diritti e cultura propri della festa della donna. Tante iniziative in tutta la provincia a cominciare da Pesaro dove alle 10.30 a Pesaro Studi saranno consegnate borse di studio del comune a quattro studentesse del corso universitario Green Industrial Engineering a cui seguirà alle 11.30 in municipio parole per l'8 marzo celebrando Franca Mercantini con letture di poesia. Alle 17.30 alla Biblioteca Oliveriana si discuterà della narrazione nella costruzione del sé femminile e alle 21 nella chiesa dell'Annunziata si terrà il concerto rosa La Voix Humaine dell'Orchestra Olimpia. 8 marzo fra teatro e musica anche a Vallefoglia con il concerto dal titolo Mina quando l'arte è donna in programma al Teatro Branca di Sant'Angelo in Lizzola alle ore 21. Spettacolo dedicato a Mina con testi regia di Claudio Salvi, narrazione di Francesca Modugno con voce di Claressa Vichi e musica del trio The Sound Messenger. Dal teatro di Sant'Angelo in Lizzola a quello di Gradara che alle 21 proporrà Memoria Indifferente, le donne della Resistenza di Gianluca Fogliazza con le musiche di Emanuela Cappa. A Fermignano invece andrà in scena allo spettacolo V.Agina di e con Giulia Bellucci. A Fano a Paricentro verrà inaugurata alle 18 la mostra Svelarsi seguita dalla performance di teatro pedagogico inclusivo Immaginazioni Vive. All'Università di Urbino domani alle 10.30 nell'aula del rettorato sarà premiato il concorso fotografico L'abito non fa il genere che darà il via a due mostre correlate nella biblioteca San Girolomo. 8 marzo fra scuole e valori sindacali nella chiesa di San Filippo di Fossombrone con gli studenti dell'Istituto Donati che presenteranno il progetto coordinato da CGL Storie di Filandaie a Fossombrone.